Salve a tutti ragazzi sono Andrea e come c'è Alberto e benvenuti in questa nuova puntata di Carbal News intanto ci scusiamo se non ci siamo stati per queste tre settimane ma non c'erano cose essenziali da dire quindi iniziamo subito con il Devnot la prima cosa riguarda la nuova aerodinamica che è stata annunciata l'obiettivo di questa nuova aerodinamica è quello di rendere il gioco più divertente e non più realistico nel senso che si baserà tutto sul divertimento del gioco e verrà rivisto il flight model in modo da essere più realistico e sarà più intitivo da utilizzare attualmente però in Carbal ci sono alcuni problemi da risolvere come ad esempio Cargo Bay e Noscon che non hanno alcun effetto sull'aerodinamica del razzo anzi aggiungono solo peso e quindi riducendo la delta V totale del razzo verrà migliorato il lift model ovvero le superfici portanti producono portanza in base all'equazione standard della portanza ovvero il lift è uguale alla velocità al quadrato verrà prodotta molto più portanza quando si aumenta la velocità e verrà modificata la portanza prodotta dal variare della OA ovvero l'angolo di attacco permettendo volo veloce a bassa quota e miglior controllo sempre a bassa quota ci sarà inoltre un miglioramento del drag model e vogliono fare in modo che i fairing, le Cargo Bay, Noscon o le parti in generale abbiano una specie di cono d'ombra in cui il drag è ridotto o quasi assente per le parti che si trovano in quella zona solitamente gli aerei sono più difficili a progettare rispetto ai razzi e quindi la squad vuole introdurre nell'editor dei miglioramenti per inserire più informazioni riguardo alla costruzione degli aerei parlando di editor ci sarà un nuovo filtro che sarà in base alla dimensione e la forma della touch node quindi MK2, 1,25 m, 2,5 m eccetera e si vuole anche migliorare la GAI e anche gli indicatori di centro di massa, potenza e portanza sempre nello space plane algar verrà modificata anche l'IVA ovvero l'attività extraveicolare i Kerbal infatti in EVA potranno scalare le sporgenze di Kraft rendendo la rampicata più semplice ovvero quando non abbiamo una scaletta o magari abbiamo la scaletta e non riusciamo a raggiungere un punto sarà più facile muoversi in più verrà modificata anche la grafica della space suite ovvero della tuta spaziale di Kerbal e saranno introdotti le nuove animazioni è stato inoltre aggiornato Kerbal a Unity 4.6.1 e non la versione 5 come si era speculato su Reddit e sul forum ufficiale infine ci saranno dei miglioramenti per quanto riguarda il comparto audio ovvero ci saranno dei miglioramenti dei suoni verrà introdotta una nuova versione demo, l'ultima era la versione 0.18.3 verrà sistemato il mapping dei tasti per i joystick e verrà revisionato il sistema di fuel crossfeed ovvero per quanto riguarda gli engine a jet il consumo del carburante sarà bilanciato per ogni singolo fuel tank in più verrà introdotto il nuovo e secondo me è una delle cose più importanti aggiunte in questa nuova versione ovvero il sistema di autowarp si cliccherà su... seguendo comunque l'orbital del nostro Kraft e cliccando quel punto si potrà azionare il timewarp 2 e quindi si attiverà in automatico il timewarp che si fermerà al punto prestabilito in più un piccolo cambiamento si ha rispetto a Kraftinfo al posto di Kraftinfo verrà rinominato in Engineer Report e infine stanno bilanciando le parti e finalmente revisioneranno e miglioreranno i tutorial che sono praticamente inutili e vecchi rispetto alle ultime versioni di Kerbal e passiamo adesso a Modzone la prima mod è la BAM ovvero la Blast Awesomeness Modifier è una mod che ti consente di far esplodere le parti praticamente inutili che hai sul tuo Kraft e che magari vuoi levare perché non le vuoi le fai esplodere è fatta veramente molto bene ed è disponibile dalla versione 0.90 quindi si tratta di una new mod la seconda mod è invece la In-Flight Waypoint che è una mod che vi permette di aggiungere dei waypoint che sono del tutto simili a quelli che trovate in carriera nella mappa solo che oltre nella mappa li potrete vedere anche nella schermata di gioco classica e sono molto utili sempre in carriera ad esempio quando bisogna fare delle survey in varie zone con dei rover il team di Kerbal Italia vi augura una buona serata da Andrea e Alberto Grazie a tutti